Ciao a tutti bambini! Ben ritrovati! Eccoci con il nostro appuntamento per la video-lezione di scienze. L'argomento di oggi, quale sarà? Le proprietà dei materiali. Allora, bimbi, gli oggetti che usiamo quotidianamente sono fatti di materiali diversi. Alcuni sono fatti per esempio di plastica, altri sono fatti di vetro, altri sono fatti di carta, altri di metallo e altri anche di stoffe oppure di tessuti. Bene, ogni materiale, bambini, ha delle caratteristiche, o meglio, delle proprietà differenti a seconda del materiale che consideriamo. Per dire, la plastica non è uguale al vetro, avrà determinate caratteristiche che rendono la plastica diversa rispetto al vetro. Allora, la prima importante distinzione che possiamo fare quando parliamo di materiali e che abbiamo anche visto lo scorso anno è la differenza tra i materiali naturali e i materiali artificiali. Ricordate, bambini, qual è questa differenza? I materiali naturali sono creati dalla natura. Quali sono i materiali naturali? Per esempio la lana, il legno, mica lo crea l'uomo il legno, eh? Il cotone, questa è la pianta del cotone, eh? E il ferro, il ferro è un minerale, ok? Ovviamente, se i materiali naturali sono creati dalla natura, quelli artificiali saranno tutti i materiali creati dall'uomo, come per esempio la plastica, come per esempio il vetro, come per esempio la gomma, ok? Bene. Quindi, partiamo dal presupposto che tutti i materiali che conosciamo hanno proprietà, cioè caratteristiche differenti. Ora, alcune di queste proprietà, alcune di queste caratteristiche, sono riconoscibili, per esempio, attraverso i nostri sensi. Per esempio il colore. Io posso vedere se un materiale ha un colore o un altro. L'odore, che può avere un oggetto rispetto ad un altro. La trasparenza, un oggetto può essere più o meno trasparente di un altro. Sono tutte proprietà che possiamo vedere, che possiamo sentire con l'olfatto, e che quindi basta utilizzare i nostri sensi per poterle percepire, ok? Altre proprietà, invece, sono, diciamo, non sono così immediate. Richiedono esperimenti e prove per essere definite. Per esempio, la pesantezza o la leggerezza, ok? Se io prendo un foglio di carta, è chiaro che sarà meno pesante rispetto ad una pentola, ok? Posso sollevarla e constatarne il peso. In linea di massima, per misurare il peso degli oggetti, utilizziamo una bilancia. In ogni caso, quindi, possiamo dire che cosa? Che, insieme a colore, odore e trasparenza, la pesantezza e la leggerenza sono delle proprietà dei materiali, ok? Quindi un materiale può essere più o meno pesante rispetto a un altro. Andiamo avanti e incontriamo quest'altra proprietà, la resistenza. Se proviamo a strappare un foglio, bimbi, cosa succede? Succede che riusciamo a strapparlo, ok? Applicando un pochino di forza, riusciamo a strapparlo. Ma se volessimo strappare un foglio di metallo? Direi proprio che non ce la facciamo. Direi proprio che ci vorrebbe tanta, ma tanta forza e forse ci vorrebbero anche degli strumenti che ci permetterebbero di tagliarlo. Diremmo quindi che ogni materiale oppone una certa resistenza nei confronti della compressione, ok? Se per esempio consideriamo una spugna, se io la schiaccio tra le dita, posso farlo con estrema facilità. Provate a schiacciare un pallone. Ci riuscite? Direi proprio di no, perché ovviamente è fatto di un materiale che resiste alla compressione, ok? Andiamo avanti e analizziamo quest'altra caratteristica, quest'altra proprietà, la fragilità. Beh, credo che a tutti sia capitato qualche volta di far volare un bicchiere di vetro dal tavolo, vero, bimbi? Capita. Cosa è accaduto in quel caso? Oltre alla bella sgridata da parte dei genitori, è accaduto che il vetro si è fatto in mille pezzi. Questo cosa significa? Significa che questo materiale, il vetro, è fragile. non è resistente. Come il vetro, anche la ceramica, il materiale con cui per esempio sono fatti i piatti, è fragile. Esempio di materiale non fragili possono essere la plastica oppure il legno. Se cade un cucchiaio di legno a terra, non si rompe immediatamente. Ok? Analizziamo un'altra caratteristica. La durezza. Questa proprietà, bambini, cosa ci dice? Ci dice se un oggetto può essere attraversato da un altro oggetto. Per esempio, se noi prendiamo una forchetta e proviamo ad infilarla dentro un pezzo di formaggio, cosa succede? Succede che riusciamo a farlo. E riusciamo a farlo perché il formaggio non è duro, ma è piuttosto morbido. Quindi si lascia attraversare. Proviamo a far entrare una forchetta dentro un'altra forchetta, ovviamente non tra i rebbi. Non succederà mai, perché il materiale è duro, non è morbido. Morbido, ok? Chiaro, bambini? Quindi avremo materiali morbidi, come per esempio la gomma, e materiali duri, come per esempio invece, che so, l'acciaio, la ceramica, che non si lasciano attraversare da niente, ok? Oppure materiali meno morbidi, come il legno, che in teoria non si lasciano attraversare. Però se io utilizzo un martello e un chiodo, il chiodo entra dentro il legno. Ok, bimbi? Un'altra proprietà importante è, scusate, l'elasticità. L'elasticità, bimbi, cosa ci dice? Ci dice che un materiale dotato di elasticità si può allungare, si può allungare senza rompersi e ritornerà nella sua forma, nella sua dimensione originale. L'esempio più banale è gli elastici, ok? Possiamo tirarli quanto vogliamo, alla fine ritorneranno sempre nella forma originale. Chiaro? Sintetizzando, quindi, quali sono le proprietà dei materiali che dobbiamo imparare a riconoscere? Le proprietà dei materiali sono il colore, il sapore, la trasparenza, la pesantezza, la resistenza, la fragilità, la durezza e l'elasticità. Chiaro, bimbi? Bene, questa breve spiegazione finisce qui. Continuate il vostro lavoro studiando le pagine indicate sul libro e ci diamo appuntamento alla prossima video-lezione. Un mega abbraccio a tutti. Ciao!